salve a tutti e ben ritrovati con il new pokemon collection come da titolo l'arrivata della pokeposta e andiamo a vedere cos'è arrivato questo pacchettino con un ringraziamento andiamo a vedere cosa c'è prima carta di oggi è un bellissimo ivi promozionale black star numero 11 bellissima la seconda carta è invece un bellissimo sabrina sabra black star numero 19 bellissime queste carte poi abbiamo pokemon tower numero 42 black star abbiamo dato un colpetto a queste black star l'altra carta è clef a black star la numero 31 tokepi black star numero 30 che belle queste carte chissà se mai riusciremo a seguirle ho dato un colpo l'altra carta è computer error sempre black star numero 16 davvero particolare e poi smeragl promozionale non sono black star numero 32 bellissime andiamo a rivedere velocemente e passiamo all'altro pacchetto il bellissimo ivi olografico vediamo quest'altro pacchettino proveniente da un albergamasco ci 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 ti ci 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 condizioni perfette riponiamo nella slip e andiamo con la seconda carta in uploader e l'altro Mew2DXY sempre l'illustrazione del maestro Arisa belle 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 tiriamo fuori e anche questo bellissime condizioni con giusto un punto bianco qui su bellissimi questi li andiamo a mettere affianco a quelli giapponesi e abbiamo poi Mega Alakazam X perfette condizioni un po' decentrata la carta e per terminare Alakazam X l'illustrazione di Arisa fuori serie 125-124 questo qualche puntino bianco in più ma in ottimo stato bellissime che belle queste carte andiamo a rivedere Alakazam X con Umbreon e Lugia il Mega Alakazam questo che non dando mi piace il Mew2X e l'altro Mew2 bellissimo due artwork davvero davvero speciali insieme a quest'altro della Kazzam fra sono fra le mie tre carte preferite belle 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 per questo pacchetto è tutto ci vediamo al prossimo vediamo vediamo che pacchetto è arrivato copriamole e partiamo belle perfettamente inserite in Top Loader Peugeot Ball League Cup Staff belle 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 altra carta Staff Circhio Creatura League Cup beccate biste 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 altra Staff Card pelle presa in asta in oggi e altra Staff Card ancora per noi giro pruder grazie al vendore di belle belle belle